un saluto da dottor palmas ed ecco un altro caso di rifacimento completo della dentatura col sistema bocca bionica quello che vedi è un paziente che montava sopra delle radici naturali limate un vecchio ponte circolare in metallo ceramica ingiallito consumato denti fatti a mano come si facevano anni fa completamente fuori asse fuori anche da ogni parametro estetico questi sono i ponti che erano incollati sopra le radici si vedono qua gli esiti della malattia parodontale granulomi sotto la radice denti incollati sopra gli impianti dentali che neanche erano scesi bene sopra il pilastro e questo è il risultato che abbiamo ottenuto già dopo la prima chirurgia con i provvisori abbiamo montato delle protesi che temporaneamente il paziente ha mantenuto sopra i sei impianti dell'arcata superiore i sei posizionati nell'arcata inferiore questo è quello che abbiamo eseguito posizionato delle viti inclinate a evitare le zone critiche dove non c'era più osso e dove era rimasto affiorante il nervo mandibolare su di questi abbiamo avvitato poi le protesi provvisorie che il paziente ha tenuto sei mesi fino alla completa guarigione dei tessuti ossei e gengivali sulla sinistra vedi la situazione di partenza il ponte in metallo ceramica incollato su radici in espulsione sulla destra la bocca bionica abbiamo realizzato gli impianti dentali e posizionato su di questi le nuove arcate abbiamo eseguito ora una simulazione di quello che sarebbe stato il risultato ottenibile di dove sarebbero dovuti essere i denti nota come i denti dovrebbero essere più lunghi e di come invece i denti erano più assenti praticamente sotto al labbro era stata completamente progettata in maniera errata la protesi questa è la simulazione finale dei denti che bio emulano i tessuti perduti lo smalto è stato rigenerato con lo zirconio abbiamo simulato col composito la gengiva con una lavorazione speciale che permette di conferire questo iperrealismo alla alla dentatura nota come la luce colpisce la superficie della gengiva queste non sono gengive in resina non sono denti in resina questi sono denti tra i più avanzati al mondo perché sono realizzati col computer con l'intelligenza artificiale andiamo a testare l'occlusione nella bocca del paziente e andiamo infine a memorizzare in cloud quelle che sono le forme dei nuovi denti guarda il risultato finale come questi denti sono più bianchi gli altri erano completamente ingialliti una ceramica fuori asse neanche coincide la zona centrale degli incisivi con la zona centrale del viso lato il centro del naso la punta del naso abbiamo rimesso in asse l'occlusione ma anche soprattutto la parte estetica mentre prima si vedevano solamente i denti inferiori ora finalmente si vedono i denti superiori quelli con cui naturalmente sorridiamo queste sono le due proiezioni laterali di queste due arcate realizzate con sistema bocca bionica queste di nuovo sono i particolari dei denti che ti ricordo sono memorizzati in cloud in caso di rottura noi con un click possiamo richiamare il progetto digitale del paziente ecco il robot andare a riprodurre i singoli denti che debbano essere riprodotti io sono dottor palmas e questo era un altro splendido caso risolto col sistema bocca bionica spero che ti sia piaciuto nota quanti anni di vita abbiamo fatto recuperare al paziente un viso che prima era spento sembrava quasi una bocca malata quasi da film horror ora possiamo dire che il paziente ha sicuramente un buon biglietto da visita sul viso col cui presentarsi alle nuove persone e alle persone già di vecchia conoscenza compresa la famiglia un saluto da dottor palmas